Grande successo per la serata delle fonti awards, tenutasi lo scorso giovedì 6 giugno a Palazzo Mezzanotte con il patrocinio della Commissione Europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo Proprietà intellettuale e industriale, dal pharma al manifatturiero, crescere grazie al know-how, moderato dalla giornalista Deborah Rosciani. La serata delle fonti awards è stata interamente dedicata al mondo del pharma e del finance consulting. Boutique di eccellenza dell'anno, appalti pubblici, ritira il premio Agi Studio Legale. Per la completezza del servizio, la conoscenza approfondita delle dinamiche del settore, la capacità di gestione di un ambito delicato come quello degli appalti pubblici e del diritto amministrativo in generale, attraverso una forte integrazione e competenza tra i professionisti. Fanno dello studio una boutique di eccellenza di grande valore riconosciuta a livello nazionale. Grazie mille, grazie a voi, complimenti. A Elefante Awards siamo in presenza di Andrea Grazzini, fondatore di Agi Studio Legale, che ringrazio per essere qui con noi. Grazie a voi. Dunque, le volevo chiedere quali sono i valori alla base del suo studio, in cosa vi contraddistingue rispetto ai competitor? Dunque, il nostro sforzo è quello di essere sicuramente moderni nell'approccio, quindi cerchiamo di dare risposte tempestive ai clienti, spesso anche innovative in settori dove le norme sono nuove, quindi si tratta di trovare soluzioni anche giuridiche nuove, però coniughiamo tutto questo con grande rigore metodologico che ho ereditato e che abbiamo tutti ereditato dagli studi dove ci siamo formati. Quindi cerchiamo appunto di mettere insieme il rigore tradizionale dell'avvocato competente, però con un approccio dinamico che sia di supporto alle imprese che si affidano alle nostre consulenze. Quali sono le competenze di punta che ritiene fondamentali e strategiche per lo sviluppo delle imprese? Beh, diciamo, noi supportiamo le imprese nel campo della contrattualistica, soprattutto nella contrattualistica pubblica, quindi le affianchiamo nelle concessioni di servizio pubblico, negli appalti pubblici e in genere in ogni rapporto contrattuale con grossi committenze. E poi l'altro settore sicuramente strategico è il diritto ambientale, quindi facciamo consulenza alle imprese per aiutarle a gestire i processi produttivi nel rispetto della normativa ambientale ed evitare conseguenze, quindi violazioni, rotture di norme, quindi che potrebbero determinare sanzioni, se non addirittura allo stop del processo produttivo. Qual è la ricetta per una perfetta integrazione tra le diverse professionalità che sono presenti nel suo studio? Beh, anche questa è un po' una caratteristica del nostro studio. Noi lavoriamo in filiera, in filiera verticale, quindi, diciamo, le cose vengono, cioè, diciamo, collaboratori di primo livello che fanno le ricerche, impostano gli atti, che poi però vengono rivisti da professionisti più esperti. Diciamo che c'è un mix di esperienza e anche dinamismo giovanile, quindi cerchiamo di fondere insieme l'esperienza di chi ha più anni sulle spalle con anche la creatività e l'originalità che può avere il collaboratore più giovane che, forse meno esperto, però proprio per questo può individuare anche soluzioni che a chi è abituato a lavorare secondo certi schemi potrebbero non venire in mente. Grazie a voi. Grazie.